Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, prima di cominciare con il video ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like Allora, io adesso ci vi porto in questa bellissima terra e vi spiego anche come fare, ok? Allora, innanzitutto questa terra si trova più o meno sotto terra, quindi come potete vedere nella mappa, ecco qua, sotto terra stiamo E già non ho capito proprio come funziona, ma o stiamo in cielo o stiamo sotto terra E niente, in questa terra potete anche farvi un sacco di rune Un sacco di rune E per entrare in questo nuovo mondo dovete fare delle semplici missioni, semplici missioni di un anziano Quindi ora ci teletrasportiamo e vi porto in quel posto Allora, il posto che ho segnato è la chiesa della rosa Quindi spono un po' nel punto più vicino, spono qua Ok, una volta arrivati in questo posto Ci sarà un cristiano, quindi questo cristiano dovete avvicinarvi Madonna Un attimo Ok, qui fuori ci sarà un cristiano, quindi parlerete con lui Ok, una volta parlato Adesso vi faccio vedere la scena che ho registrato mentre facevo la missione Perché una volta che avete parlato con il cristiano Qua vi darà delle dita Queste cinque dita di color rosso Sono molto fondamentali per entrare in un altro mondo Quindi invadere un mondo di un altro lord, cioè come noi Ok Entrate, morite, fate quello che volete Basta che sprecate tutte le cinque dita Una volta sprecate tutte le cinque dita Ritornate da questo cristiano Ok, una volta parlato con questo cristiano Vi darà certe cose, quindi certe cose che nell'inventario vi serviranno Poi, una volta raggiunto questa chiesa Andate in questo posto, che sarebbero i quattro campanili Ecco qua, proprio qua Tanto basta che salite qua sopra È una lunga salita qua sopra Quindi fate anche attenzione Perché qui ci sono anche certi cavallieri che vogliono veramente distruggerti Andate qua ai quattro campanili Aprite questo baule e vi darà una chiave della spada magica Che vi servirà per aprire uno di questi tre portali Mi raccomando, fate attenzione a quale aprite Quindi state molto attenti Allora, il portale da aprire è questo E raggiungeremo un'altra destinazione Ok, ci porterà la cappella dell'attesa Non so se vi ricordate Ma questo posto è il posto dove iniziate, ok? Sì, è questo il posto dove iniziate a uccidere Cioè dove c'è stato in quelle catacombe Poi c'è questo mega ragno che dovete uccidere Tanto non ci vorrà niente Se siete di livello alto lo farete fuori in meno di dieci secondi Entrate qua dentro E prendete il fazzoletto Questo fazzoletto che è il fazzoletto rosso bagnato nella vergine Quindi, già, così dicono, vabbè Prendete il fazzoletto Ritornate a casa Dovete ritornare da quel tizio alla chiesa E parlare con lui Una volta parlato con lui vi darà quel punto Cioè questo qua Aspetta, vi faccio vedere Vi faccio vedere cosa vi darà Eccolo qua La medaglia del cavaliere di sangue puro Vi darà questo e vi darà anche un'altra cosa Voi cliccateci sopra e usatelo Voi regarti al luogo dell'udienza Certo E siamo arrivati a questo palazzo Quindi ragazzi Buona fortuna Perché veramente Buona fortuna E ve lo dico Perché Più avanti incontrerete un boss Un boss veramente Non riesco a ucciderlo Non ci riesco veramente E' una volta ucciso Proseguite E poi Ci sarà un metodo Più avanti Per farvi rune Easy Quindi Un sacco di Cioè un mio amico Mi ha spiegato come fare E se stava facendo 50-100 mila rune Ogni 10-15 secondi Così come se niente fosse E già Incontrerete questi tizi Dov'è la mia spada? E niente ragazzi Grazie a tutti per questa visione E noi Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao